Operazione antidroga della polizia di Battipaglia, che ha sequestrato 191 grammi di cocaina fatta in casa, in un fabbricato in via Tuffariello. I poliziotti hanno trovato due pusher e un cliente all'interno dello stabile. Le successive perquisizioni hanno consentito di trovare la coca insieme a 300 euro, due confezioni di mannitolo utilizzato dagli indagati per aumentare il peso della sostanza stupefacente, un rotolo di nastro adesivo, un coltello a seramanico con impugnatura e legno e lama a punta, una confezione di guanti lattici e un bilancino digitale. Tratti in arresto il pregiudicato Marco Boff, 33enne residente ad Eboli e un 31enne residente a Battipaglia.